La scorsa stagione di Abissi Cedra in titolo ai propri rivali, quest'anno vogliono rifarsi a cominciare da oggi. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Ecco la formazione iniziale del Borussia Mönchengladbach. L'allenatore ha scelto di schierare con una sola punta di ruolo, supportata a due sterni di spinta sulle fasce. 4-5-1, attacco. Un grado di garantire anche una certa tutta cura in mezzo al campo in fase di non possesso. Ecco come si stierono agli ospiti. Il tecnico è riuscito almeno inizialmente per il 4-4-2. E a bel tiro, senza problemi qui, segneranno certo con questi tiri. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Possibilità per la ripartenza. Allora, intercettando. Ecco che benisce. Vence. Quinta. Lange. Janske. Hanno spezzato bene la trama qui. Una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti. Avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Occhio a tiro. Un'opposione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Stinder. Plea. Lange. Intermetto tempestivo del difensore che traccetta il passaggio. Ci sono metri a disposizione. E il portiere recupera il pallone. Tocco impreciso, pallone recuperato. Supera l'avversario. Alla spazzata via. Spazio per il cross. Hanno l'occasione del passaggio in vantaggio. Tutto fermo, tutto fermo. Se fuori gioco, il difensore sembra mai esserciuto lungo. Lange. Stinder. Cercare il buco nella ripresa avversaria. Controlla male e regala il pallone agli avversari. Plea. Mano aperto. Il portiere è un marcatore completo a bordo. Vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Aspetto una reazione da sale. Dovranno sudare. Ognuno può dare a casa la vittoria. Il portiere l'ha toccata. Ma non è riuscito a evitare che la palla entrasse. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Palla vagata. Plea. Passaggio che non era certo tra i più precisi. Questo ha acevolato il suo intervento. Focco verticale interessante. Buona intenzione. Johnson. Alla fuori sarà il corner. Che gli è il tocco corto. Corner battuto in mezzo. Sarà battuto dunque. Caccio di punizione. Occasione d'Ano. Si guardano più due con questo gol. Magina abbastanza rassicurato. Anche ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la riposta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciarete. Siano gli altri. Qua della prima mossa. Hanno raddoppiato. Adesso sono avanti 2-0. Occhio al suo movimento. Taglia al centro. Il portiere è sicuro. Sceglie la soluzione più prudente. Sparsa. Crammer. Asà. A metri per correre. E' ferma ma non controlla. Occhio al contraviede qui. Doveva essere una buona occasione. Ma qui si sono... Occhio al pallone filtrante. Palla in out. Sarà rimessa laterale. Crammer. Stinder. Plea. Commette da qui. Vada su per il portiere che vale come un gol. L'intervento di pure istinto su questa conclusione da pochi passi. Tocca per il compagno. Difensore spazza in qualche modo. Crammer. Palla persa. Lang. Asà. Ci saranno due punti direi qui. There will be a minimum of two minutes. Occhio c'è il cavale di rigore. Rossa verso il centro. Respinge di pugno. Lancio fuori misura. E l'arbitro dice che può bastare ma da tutti gli spogliatori. Grazie. Tutto pronto. Comincia la seconda frazione. Continuano a girare. Palla. Allora è importante. Non può andare a riprire la gara. C'è la sola potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato. Dai. Sbagliare la colpita però. Pagliare male. Crammer. Vent. Crammer. Vent. Stinder. Allora è gestito male e riconsegnato agli avversari. C'è spazio per andare. Ha offerto una prova eccezionale in questi primi 45 minuti. Vedremo se sarà in grado di leggere gli stessi ritmi anche nel secondo tempo. Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui. Ne ha fatti due nella prima metà di gara e punterà almeno la tripletta nella ripresa. Bravo. Bravo a calciare. Il difensore è un puro anzi questo tiro. Ultimo trucco del difensore. Si ripartirà col corner. Cross verso il centro. Ha sciupato tutto la bocca i passi. Potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi. Non deve abbattersi. Assolutamente. Gli errori ci stanno nel calcio. Anche se onestamente era più facile segnare più che sbagliare. Vence. Guarda il recupero. Possono ricominciare. Palla schizza via dopo il contrasto. Lang. Assa. Baragna metri. La respinta di pugno. Ottimi i suoi passaggi oggi. Perfetto oggi le passaggi. L'attacco. L'attacco di pugno è un portiere. Detto qui il difensore che ha l'attacco. Arbitro che concede il vantaggio. Renta giusta. Lang. Prova a spingere il clubback lungo la fascia. Suma dunque e aziona l'attacco. Assa. Assa. Premia la corsa sulla fascia. Sale grave. Grave. Non riesce a bloccare. Attenzione. Grande intervento che sventa un'azione molto pericolosa. Non può sbagliare da lì. E' un gol. Rete. Grave che il bisogno era vicino. All'anghella rica. Ennesimo gol subito oggi. Il portiere non è riuscito a dare minimamente sicurezza alla rinchi. Vero incontenibili. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Vanno a spingere il clubback lungo la fascia. Blanchio. C'è spazio per il cross. Buon recupero del pallone. Possono ripartire. Possibilità per la ripartenza. Quinta. Ian Zomber. Sale la difesa. Scatta la trappola. E' fuori gioco. Le conquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Intercettano per il pallone e provano a ripartire. Arbitro ha visto qualcosa che non va. Tisca in caccia di pozzo. Allenatore richiama in partire il giocatore. E il pubblico. Sentite. Sentite. E' tutto solo. Grande intervento del portiere. Pronto a battere questo posto. Palla verso il centro dell'area. Ha spazio per tirare. Palla allontanata. Le va dalla cross. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lancio. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Vence. Non ferma il gioco l'amico. Il vantaggio. Vence. Attenzione. Pericolo. E ne entra in tempo. Una giornata che non dimenticherà. E' arrivata la trippetta. Rivediamo il tiro che ha portato al gol. Palla che ha picchiato contro il palo prima di entrare. Un colpo da Vigliano da parte dell'attaccante. Preciso. Bravo e fortunato. In questa circostanza. Sarareno. Buon possesso palla. Cercando sparsi. Attenzione. Pericolo. Una nuova dimensione. Palla spazzata via. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Ottimo il recupero. Passaggio non esattamente perfetto. Asano. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. Siamo al rush finale ma buona riflessione qui. azione interroppo. Azione interroppo. Prova ad andare lungo sulla torcia della campagna. Grande pallone verticale. la mette in mezzo. Ha trovato bellissimo gol di testa qui. La girata in maniera perfetta. Ha trovato un gran gol. Per il torio dei suoi colpi di testa. Si vede che la sua girata oggi non ha sbagliato nulla. Finora trovando il gol da ogni posizione e in ogni maniera. Ma preso fiducia. Difensore hanno provato a stringere la marcatura. Ma non è servito. Venti. Andiamo a bordo campo. Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Ultimo giro di orologio. 60 secondi allo sconcare del novantesimo. D'accordo? Grazie tanto a Matteo Barzaghi. Perdono il pallone. Prova a spingere il klarbach lungo la fascia. Occhio in mezzo. Non può cercare il cross. Ha perso il pallone. A spazio. Brava. Tiro respinto. Ma la palla è ancora in gioco. Attenzione a tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano. Perché non ha passato il pallone. L'area ha visto uno spiraglio. Si è lasciato in golo. Tempo a scambio.